Fate qualcosa, la bomba ecologica dell'Amianto presente nell'ex area Leuci in centro Lecco finisce sul tavolo del Ministero dell'Ambiente che sollecita l'intervento di tutti gli enti locali coinvolti dalla Prefettura al Comune di Lecco. Finora, nonostante l'interessamento agli impegni presi pubblicamente, le lastre di Amianto gravemente danneggiate sono ancora sui tetti dei capannoni dismessi che si affacciano su via 11 febbraio. Dopo le proteste dei residenti nelle vicinanze dell'ex fabbrica, il gruppo Aiuto Mesotelioma ha segnalato la situazione al coordinamento nazionale Amianto che raccoglie tutte le associazioni impegnate nella battaglia contro l'Eternit e contro il Mesotelioma, cancro causato dall'esposizione alle fibre dell'isolante. A seguito del nostro avviso, dichiara Cinzia Manzoni, presidente del gruppo, il presidente nazionale Salvatore Nania ha contattato tutte le istituzioni competenti. A tutti loro abbiamo chiesto di adoperarsi affinché sia rispettata l'ordinanza firmata dal sindaco di Lecco, Virginio Brivio, lo scorso 26 giugno, che impone alla proprietà la bonifica dell'intera area. Il nostro appello fortunatamente non è caduto nel vuoto e abbiamo avuto risposta direttamente dal Ministero dell'Ambiente che chiede a tutti gli enti di effettuare le verifiche del caso. Inoltre il Ministero, continua Cinzia Manzoni, ha confermato come l'ex Leuci, nonostante la presenza di Eternit sia ben nota, a tutti i lecchesi non risulta inclusa nella mappatura Amianto trasmessa dalla regione Lombardia. Ancora una volta torniamo ad occuparci di questa fabbrica. Notiamo che c'è molta attenzione sulla vicenda da parte delle istituzioni oltre che dei residenti. Lasciare però una bomba ecologica e sanitaria come quella in pieno centro città è semplicemente da incoscienti. Speriamo, conclude la portavoce, che l'interessamento del Ministero non resti inascoltato.